Secondo me lo sport importante andrebbe insegnato fin da subito nelle scuole e ai ragazzi perché racchiude in sé oltre a un aspetto di miglioramento fisico anche tutta una serie di valori che poi sono fondamentali nella nostra vita. Lo stare in gruppo, rispetto delle regole, rispetto di un avversario, la sconfitta, imparare a rialzarsi e a vincere i propri limiti, a cercare di andare sempre avanti a migliorarsi e sono tutte cose che racchiuse in questo periodo così importante di crescita personale ci porteranno ad essere persone migliorate.